È un'iniziativa che è stata promossa dall'ente provincia BAT con la collaborazione del centro per l'impiego di Andrea e Barletta e che prevede l'istituzione di borsi lavoro. Grazie a questo le aziende possono assumere, oddio non è il termine giusto, però far lavorare i ragazzi per sei mesi a costo zero e magari poi nel proseguio dar loro anche delle opportunità per una stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato. È una di quelle opportunità che il nostro istituto garantisce ai propri ragazzi dando continuità al percorso scolastico dopo il diploma. Ed è anche la dimostrazione che quando le varie istituzioni, enti locali, centri per l'impiego e scuole si adoperano all'unisono e collaborano su queste iniziative i risultati si vedono. Mi piace rimarcare il fatto che ai ragazzi viene dato finalmente un segnale di positività nella misura in cui si dimostra concretamente che delle opportunità per entrare nel mercato del lavoro ci sono e sono reali. Grazie.